L'imprenditore salentino di Racala in provincia di Lecce, Francesco Sant'Antonio, di 60 anni, ha presentato una formale denuncia querela ai carabinieri contro il premier Matteo Renzi e l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla base della decisione dell'imprenditore vi è stato l'invito a non votare al referendum lanciato da Renzi e Napolitano, invito che a suo giudizio violerebbe l'articolo 98 del testo unico del 1957. Nella denuncia si fa tra l'altro riferimento al diritto dovere dell'elettore.